Bentornati a tutti. Oggi è martedì, 20 febbraio 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Vergine. Cielo ambivalente sopra di voi. Stelle emblematiche oggi nel vostro cielo, la migliore, la più generosa, ovvero il grande Giove intrigono, la più antipatica e cattivella Saturno all'opposizione, provvidenzialmente corretta, però, dall'approdo del sole, un po' di luce nella tenebra Saturnina e un po' di tepore sulla sua freddezza. Nel ruolo di mediatrice per vostra fortuna la luna, signora della giornata e quindi più potente del consueto, perciò approfittatene per dare un colpo alla botte e un al cerchio cercando di ottenere il meglio che potete. Se l'amore non è al top cercate consolazione su altri fronti, viaggi, almeno da prenotare, cultura, enogastronomia. Qualunque sia il comportamento del partner, sempre un filo distaccato, la vostra meravigliosa apertura all'ambiente e alla natura è una carezza consolante, che regala comunque pienezza alla vostra vita, se il mondo non vi segue poco male, andate avanti dritto per la vostra strada, il futuro vi darà ragione. Rabbia e collera, indignazione e disgusto, i sentimenti peggiori vengono scatenati per questioni anche di scarsa importanza. Un periodo difficile e di crisi per la coppia. Tutto ciò che segue potrebbe diventare negativo per rancore, odio, perfidia. Un periodo davvero difficile e soprattutto molto nervoso per il consultante. Oggi alcuni di voi potrebbero fare incontri determinanti sia in amore che per lavoro, per questi ultimi giove farà sentire tutto il suo potente influsso. Amore in crisi in tutti i sensi se non tirerete subito le somme di un vostro comportamento che assolutamente va cambiato. Pensate che in fondo basta poco. Oggi buone opportunità in amore per i single, speciale mnete per i nati di lunedì dalle 9 alla 15. Ci potrebbe essere un regalo che vi aspetta e che potrebbe farvi felici. Se state pensando a una vacanza cercate di progettarla con il dovuto anticipo. Venere in buon aspetto vi regalerà il sorriso in amore e vi sentirete appagati e appaganti. Solo in serata qualche piccolo neo potrebbe infastidirvi. Snellite le vostre spese, economizzate, risparmiate, le rinunce che farete oggi e nei prossimi giorni si riveleranno in tutta la loro positività a breve. Una persona che non riuscite nemmeno a immaginare vi pensa e vi segue nell'ombra, ha molta stima di voi e nutre per voi un tenero sentimento. Ma difficilmente verrà alla luce del sole. Cambiamenti di umore repentini. Un amico ti tradirà o deluderà. Qualcosa si potrà rompere. Attenzione nel maneggiare oggetti fragili. Ottime occasioni per dedicarsi a una buona e sana lettura, oppure guardare un film che da tempo desiderate vedere, oppure riflettere un po' da soli. Nelle coppie che hanno almeno un anno dietro le spalle potrebbero verificarsi screzie e incomprensioni che se non tamponati a tempo potrebbero degenerare fino al litigio e in qualche caso anche alla separazione. I single facciano attenzione a quello che si muove intorno a loro e cerchino di non prendere lucciole per lanterne. Urano, astro vostro nome tutelare, in angolo positivo dal toro, prevede qualche confronto diretto che si risolve a vostro favore quest'oggi, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 7 al 14 di settembre. Tre pioneti pesci, segno percettivo, acquatico, segno di creatività e fantasia, vi costringono in un certo senso a uscire allo scoperto e a non irrigidirvi in tante situazioni. In famiglia, in particolar modo, si apre la possibilità di fare delle scelte di cambiamento che hanno il merito di migliorare la situazione esistente. Ci sarà la necessità, se siete genitori, di trovare punti di dialogo più fermi con i vostri figli. Con Saturno contro la vita non è facile, ma oggi con il sole che passa in pesci illuminandolo, una luce di direzione la vedete anche voi. Qualcosa da chiarire in coppia o tra soci c'è e subito, un collega affezionato, un parente che stravede per voi, impersonato dal sestile di Giove, non potrà fare a meno di mettersi dalla vostra parte. Amore ed Eros Strana mescolanza di sentimenti, ciò che spacciate per amicizia è un amore idealizzato, dissimulato sotto l'etichetta sbagliata per non rimetterci la faccia. Potrebbe accadere anche il contrario, definendo amore quello che invece è un'amicizia affettuosa oltre la quale non ve la sentite di andare, niente responsabilità, legami o messe in gioco superiori alle vostre possibilità. Ricerca di accordo fisico e corrispondenza mentale, questi due parametri sono fondamentali per voi nel dare avvio a una nuova storia d'amore. Se siete nati nella terza decade la luna in cancro, in angolo molto bello, vi consente di mettere basi solide a una nuova relazione da poco cominciata. Lavoro e denaro Siete in gambissima ma l'eccessiva modestia con la quale vi proponete allo sguardo altrui vi fa perdere anziché guadagnare punteggio, siete l'immagine dell'onestà, ma un filo di astuzia in più farebbe buon gioco anche a voi, soprattutto in affari e nelle relazioni collestero. La vostra immagine migliora e, dall'esterno, apparite ancora più vincenti, in particolare se appartenete alla prima e alla terza decade. Sono merito di Giove e Urano alcuni risultati di primordine che state toccando con mano in campo professionale specie se avete abbracciato un'attività indipendente. Benessere. Saturno l'ortopedico del sistema solare vi bacchetta, constatando una certa rigidità nelle vostre articolazioni. Con la scusa dell'inverno avete disertato l'attività sportiva, ma è ora di uscire dall'etargo e rimettersi in pista, anche l'immagine allo specchio ci guadagna. Piccoli inestetismi di cui prendersi subito cura. Denaro. Avete la possibilità di ottenere qualche vincita al gioco con la luna benefica dal cancro e con Giove splendido in toro. Il lotto appare l'occasione che fa per voi. Ma prendete sempre i numeri pari, sono quelli a voi fortunati. Per lei, messaggio con invito dall'amica del cuore trasferitasi oltreoceano, idea allettante, ma ora come la metterete con il vostro lui, che troverà senz'altro da ridire, facendovi una scenataccia? Per lui, gli amici vi sollecitano, il viaggio dei vostri sogni oggi è online a prezzo stracciato, si fa per dire. Prenotazione immediata, altrimenti perdete il bonus. Colore delle emozioni, rosa pesca. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6, attività, 10, finanze, 6, benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.